Chiusa la tre giorni di gara del Gran Premio di Made in Italy a Imola, il sindaco Marco Panieri si dice soddisfatto per il gioco di squadra messo in campo e traccia il bilancio dell'evento, ancora a porte chiuse causa pandemia, con uno sguardo verso la possibile riedizione anche per il 2022. Questa volta però augurandosi che se dovesse realizzarsi questo obiettivo il pubblico sulle gradinate possa diventare il vero e nuovo valore aggiunto. Il gioco di squadra era partito nell'allestire tutto quello che era il percorso per fare la gara, poi c'è stato un gioco di squadra in pista perché le cose non capitano per caso, nel senso che anche l'ottimo risultato viene dalla parte tecnica, i Marshall, la CEA, la parte sanitaria, tutti i tecnici, le forze dell'ordine che hanno presidato l'area, quindi un gioco di squadra che parte da prima e poi si unisce dopo e poi prosegue in un percorso che quindi ci porta dopo due gare a una possibile terza e questa volta col pubblico ovviamente. Questo è l'auspicio, quindi tutti noi abbiamo lavorato questa domenica sulle relazioni per arrivare a un nuovo Gran Premio nel 2022 che prosegue una storia di un circuito che è il Tempio della Velocità. Imola c'è sempre stata, per un po' di anni abbiamo preso una pausa, possiamo dire così, però penso che con questo gioco di squadra, con questo Tempio della Velocità, con questa promozione forte sulla Motrovalle, sul Made in Italy, quindi interazione tra governo, regione, territori, terremotori, penso ai 23 comuni del Konami e tutto il resto, e la città di Imola, penso che ci siamo giocati bene le nostre carte per la seconda volta e quindi non c'è due senza tre. Grazie! Grazie!